Per cui poi alla fine Stanca si è dimesso? Alla fine Stanca si è dimesso dopo un periodo in cui non ha fatto niente, tra l'altro non ha fatto niente, ha fatto poco per Expo ed è stato poco presente anche come parlamentare, io credo che sia stato sbagliato scegliere Stanca come amministratore delegato della società doveva fare l'Expo, qui ci voleva qualcuno che stesse qui tutti i giorni, che avesse un impegno preciso, Stanca può avere anche il profilo del manager per farlo, ma doveva dimettersi da parlamentare, invece non ha fatto questo e poi alla fine ha preso anche un compenso molto alto, secondo me in debito, che non doveva prendere, io non ne faccio la questione legale o meno se poteva farlo, ma ne faccio una questione di moralità, hai già uno stipendio che devo dire di tutto rispetto come parlamentare, se anche assumi un doppio incarico e non lo dovresti fare, almeno farlo accontentandoti di uno dei due monumenti, o rinuncia a quello di parlamentare o rinuncia a quello del coro, invece di tutto questo si è dato un pessimo esempio di una scelta tutta politica, non in grado di dare efficienza alla società e che poi è costata le tasche del contribuente, un sacco di quattrini spesi per nulla e dati a chi non ne aveva diritto di prenderli, di percepirli, quello che mi stupisce è che una persona come lui non abbia sentito il dovere, il bisogno di dire no, sono già pagato dai contribuenti, uso quello stipendio che credo che sia sufficiente per poterci vivere bene senza dovermi attaccare ad un altro stipendio. Ma perché si è dimesso stanca? E l'hanno fatto dimettere perché oramai non stavano più insieme le cose, nel senso che alla fine lì si è concluso e si è consumato un grande scontro di potere, la Moratti che all'inizio voleva tenersi il suo uomo di fiducia e poi si è arrivati alla mediazione che se ne è dovuto andare dopo un anno e poi dopo ci ha messo stanca. Ma lo scontro tra chi è? Lo scontro era tra la Moratti, io credo che fosse tra la Moratti contro tutti, la Moratti a un certo punto ha detto che finché c'era il governo di centro-sinistra doveva tenere un po' di relazioni, vince Berlusconi, cambia completamente e dice questa è cosa mia adesso. Adesso è una cosa che gestisco soltanto io, che metto la persona, mia fiducia, mio domestico quasi, adesso non voglio essere offensivo verso nessuno, ma insomma il rapporto era questo, che poi tra l'altro faceva riferimento a lei ma anche alla famiglia e agli interessi stessi della famiglia, per cui adesso decido tutto io, faccio tutto io e nel centro-destra questa cosa non è stata accettata, non è stata accettata dal Presidente Formigoni, non è stata accettata dal Ministro Tremonti che è un grande euroscettico. Per cui Moratti, Formigoni e Tremonti? È stato quello, è stato quello e anche devo dire, un po' Berlusconi, ma lo scontro più forte è quello, è quel triangolo con la famosa battuta che avrebbe detto Tremonti alla signora dicendo tesoro, questo non è tesoro, cara, questo non è tuo marito, lo Stato non è tuo marito che se fai i capricci tira fuori i soldi, qui è un'altra cosa, poi che sia vera, lui non l'ha mai smentita però, che mi risulti lui non l'abbia mai smentita, quindi se non è vera è talmente verosimile che lui non l'ha neanche smentita.